PERCHE LUKE E LUKE in questo episodio nulle nulle perchè non c'ho voglia di fare nientole no no scherzo dovrei fare un sacco di cose però non lo so non lo so madonna mi sono spaventato perchè qua c'è il gratino ho detto che cacchio sono lì c'è il paese meraviglia dove è buona qua io lasciare efficienza 4 un piccone inciantato e un po' di roba wow 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 roba che non mi serve ragazzi oggi vorrei fare un giro nelle tane c'è un giro nelle nelle catacombe un giro nelle nelle piramidi per farci 4 5-6 idee di come allestire all'interno ok per cui giroacchiamo anzi sapete che faccio facciamo un po' di torce ho preso anche la roba che ci dovrebbe servire facciamo un po' di torce dovrebbero venire 4 stack eh si 2 stack 2 stack allora andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere intanto ragazzi continuate a consigliare nei commenti ditemi ragazzi cosa potrei fare quale costruzione perché per come non lo so qualche impianto nuovo qualche bug nuovo che avete scoperto qualsiasi cosa voi commentate che io prenderò spuntoli ho una cartella sul deckstop con tutti i vostri consigli ora appena ho tempo appena ho voglia li tiro fuori ok poi qui vediamo un po' che abbia eeeh che è la cosa bella che mi dimentico delle cose capiscete qui l'entrata la faremo qua per cui vediamo un po' che tipo di entrata fare ah ragazzi mi l'ho dimenticato oggi voglio fare un video totalmente per i soldi cioè non per voi per i soldi ok per cui da in poi video da adesso in poi si trasformerà per i soldi non più per voi bene banconote stavo dicendo eeeh scriviamo qua dobbiamo fare qui l'entrata però l'entrata mi viene a tre mh interessante 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 uuuuh dobbiamo andare a mettere un po' di torce eh un po' di torce ora uccidiamo un attimo questi creeper diamogli una bella lezione sai perché soldini in poche parole voglio fare qualcosa di strano cioè non voglio fare come nelle vere nelle vere piramidi per cui andare a vedere come siano fatte tutte le cose che c'hanno dentro no le facciamo di fantasia nostra propria ok però prima di tutto dobbiamo mettere la luce negli angoli perché sennò qua facciamo un padadrack facciamo un padadrack allora una cosa carina che si potrebbe fare è mettere tutte le luci negli angoli vi faccio vedere come per esempio farci una bella scalata una bella scalata il problema che è un macell è un macell perché è un macell guardate cosa mi tocca fare guardate cosa mi tocca fare facciamo così così ok mettere tutte le torce così ah però non le fa mettere porca pulpastrell porca pulpastrell allora sto pensando o mettere la glowstone negli angoli o non lo so oppure non lo so però le torce ci vanno oppure fare così guardate andiamo su un attimo andiamo fino su 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 ragazzi vi ricordo vi aspetto in live alle 15 dovrebbe uscire un bel figo montage vi consiglio di guardarlo perché alle 15 uscirà un montage della madone della madone di un live che mi ha fatto chino per cui perché c'era ieri live o in ts saprà per chi non c'era vedrà ok poi verso le 18 dovrebbe uscire un episodio di look e meccanico contentoli siete contentoli ecco però vedete non mi piace perché a questo punto non lo mettiamo nemmeno qua yes nemmeno lì così poi vediamo fin dove arriva l'ambaradam possiamo scendere un po' e mettere le torce anche lì vediamo un po' scendiamo di qualche cubo andiamo al centro perché ho fatto male le cose perfetto andiamo al centro da qua inizia più o meno il buio per cui andiamo a mettere altre torce qua allora esattamente qua e non ci arrivo però porca di quella pupastrella qua esattamente e non ci arrivo esattamente qua vai qua non ci arrivo però non ci arrivo qua oh là tutte torce 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 e però non ci arrivo cioè devo fare la piattaferma forma vedete ragazzi devo fare l'impalcatura per andare a mettere quattro torce vedete conto questa è la cacchietta che ho fatto che non le ho messe prima nel montaggio quando c'era il montaggio dovevo già mettere le torce così era un po' più meno complicato farlo no? che ne pensate? l'altezza è questa yes mettiamole qua ora vi faccio vedere anche l'effetto da sotto non è non è una figata però dà l'effetto di luce ok? è una cosa più che altro utile che figolosa andiamo qui oh questa parte è fatta andiamo a fare l'altra e poi smantelliamo tutto lo facciamo anche di qua oggi non ci voglio di tagliare il video siete contenti? mi vedrete tutto il giorno mettere torce siete contenti? mamma mia cioè non vedo l'ora di farvelo vedere andiamo qua questo video lo intitolerò la torcia vai finish anche questo piano smantell aia smantelliamo tutto per cui bisogna risalire e smantellare metto la sabbia perché è molto più veloce da togliere solo per quello non per altro non per altro smantelliamo qui smantelliamo lì smantelliamo tutto così smantelliamo mi rimane l'ultimo cubo l'ultimo cubo sono caduto giù ancora un pirla eccolo qua finish pastiglia ultra vai finish finish togliamo tutta la sabbia si vi ho tagliato un pezzettino di video si lo ammetto sono sincero ho tagliato un pezzettino di video perché boh non so perché mi è venuto a voglia di tagliare il video cioè è una cosa così è una cosa proprio improvvisata proprio improvvisa vai allora vedete che già c'è più luce l'abbiamo in altri blocchi d'oro che ora l'oro lo abbiamo basta andare un attimino nel nether e ci riempiamo d'oro anzi quasi quasi dopo lo facciamo ora togliamo tutto ciò che non c'entra tipo questo non c'entra liberiamo tutto lo spazio ok ok gli manca un pezzo di sabbia e lo mettiamo subito va ok vorrei mettere altre torce a questo punto però non so se non so se vediamo un po' se metterle o non metterle voi che ne dice che ne dicete intanto bisogna togliere queste torce che non c'entrano più nulla ok questa vabbè non ho detto spacchiamo tutto ho detto togliamo qualche torcia sinceramente qua ok questa qua non c'entra si io forse un altro piano io lo farei un altro giro magari dove ci arrivo la terra tipo qua guardate tipo qua che ne pensate qua un giro di torce mi mancherà dovrò fare altre torce un giro di torce qua dovrebbe illuminare sia qui che se eh perfetto anche sotto forse se abbiamo culo illuminiamo anche a terra se abbiamo culo illuminiamo anche a terra e dovremmo togliere tutte le torce a terra ed è proprio quello che voglio se abbiamo culo perché se no abbiamo culo non facciamo luce a terra più che a terra magari al centro è difficile farlo allora facciamo altre torce altri bastoncini findus altre torce altri due stack vai wow 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 e luce fu e luce fu infatti notate che al centro non la fa vabbè metteremo magari della glowstone a terra che ne pensate magari del vetro con la torcia che non sarebbe male non sarebbe male consigliatemi i commenti ragazzi mettiamo a terra buco buco faccio vedere come intendo buco buco ok torcia e qua vetro o mettiamo direttamente la 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 cosa lì e va vangu comunque comunque ragazzi già ha un'altra cosa all'entrata ok è molto più luminosa quando la si entra quando la si entra ora riprendete un attimo gli occhi guardate il mondo esterno non pensate alla piramide distolgete ogni pensiero togliete tutto dalla mente svuotatela ok dopo aver fatto un corso di yoga velocizzato possiamo entrare vediamo l'effetto wow che figato allora andiamo a trovare il nether a prendere dell'oro perchè voglio completare quella sopra per cui andiamo nel nether che poi non c'è anche bisogno di andare alla farm basta andare sia alla farm ma direttamente nelle chest perchè dovremmo già avere qualcosa d'oro se non mi sbaglio si dovremmo avere un bel po' d'oro perchè io non l'ho più trasformato andiamo a vedere bella la bella la bella spade on wine and the spines ring in the night when we see this so say yeah jingle bell jingle bell jingle all the way and the fight ring in the night when we see that way and the bifani and when the capodani and when the natali and carnavali and the pasquali and the estati and the tuto lili and the spines and the flay jingle bell jingle bell jingle all the way and the fight alky way perchè più on ve yeah jingle bell buongiorno 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 a tutti i giorni buongiorno non c'ho più niente ahhh due lingotti vai con due lingotti facciamo un sacco di roba no scherzo abbiamo un po' di questi vediamo un po' che riusciamo a fare beh sei lingotti facciamo un bel facciamo un bel non lo so un bel un bel però se non clicco non va logicamente però se non clicco logicamente non va perfetto facciamo 8 e facciamo facciamo che non va più perfetto se lo finanzi ho rotto ragazzi ragazzi le torce stavamo mettendo le torce vabbè no vabbè mi ritiro mi ritiro allora andiamo un attimo su e andiamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa andiamo a vedere nella cesta se c'è qualcosa sinceramente se funziona il kart logicamente non mi sono messo in fk ancora però magari mi posso mettere 5 minuti adesso no se che cacchio un giro di kart ci metto 8 anni figuriem figuriem jingle bell jingle bell sali le scale in ingles stars hello lady champ eeeh dai 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 non ci lasceremo mai 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 perché noi siamo grandi 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 anche se volendo potrei entrare potrei entrare potrei entrare non c'è qualcuno oh il kart sta andando oh il kart gira un po' di roba da raccogliere c'è senti il kart che gira magari abbiamo anche il culo lo vediamo a svuotarsi andiamo a vedere dove è il kart è un po' in fondino è un po' in fondino è un po' in fondino ecco magari aspettiamo che finisce il giro dovrebbe essere l'ultimo giro del kart vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' nooo là quello è l'ultimo giro del kart aperte le scommesse se quale è l'ultimo giro del kart si vince scommettete scommettete scommetti adesso scommetti adesso minchia vi perdevate tutti avete scommesso vai questo è l'ultimo me lo sento questo è l'ultimo dovrebbe andare lì in fondo dove l'indico e tornare indietro così vediamo un po' eccolo là sta arrivando sta arrivando sta arrivando vedremo in diretto là il kart scaricare a breve eccolo qui il kart dalla lunga eccolo che entra in fa eccolo qui è eccolo qui è eccolo qui è Ah, non capisci. Non! 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 No! 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 Cazzo è finito il carto! Il binario! Oh! Ma mi ha rubato il binario! Oh, raga! Mi hanno rubato il binario! No, questo deve essere una questione di principio! Cazzo è finito il binario! Guarda dove è finito! Porca lo già! Porca vacca! Ed eccolo qua! Si era bloccato tutto quanto nel carrello! Perchè c'era un blocco là! Perchè c'era un blocco là! Mi dispiace del casino! Perchè questo non si attacca! Mi ha rubato un'altra volta sto coglione! E io come lo prenderò! Vaffanculo! Vaffanculo! Devo riscendere! E devo anche risalire! Devo andare là in alto! Nel carrello! E invece no! Me l'ha rubato! Guarda qua! Dove si era messo! Ma no raga! Mi sto incazzando! Mi sto incazzando! Vabbè! Facciamo che risolverò questo peccadanno! Intanto! Questo lo rimettiamo lì! Vaffanculo! Non è da così! Non lo sto combinando! Non lo sto combinando! Questo da così! Là! Questo è là! Questo è là! Lo! Lì! Un bacio e un abbraccio! Da Luca e tutto! Che gridano! Ciao a tutti!